Beni per oltre 8 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore ritenuto colluso con il clan dei casalesi. Il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capoavetere su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli è stato notificato a Raffaele Pezzella, 58enne originario di Casal di Principe, titolare di aziende dili e mobiliari, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. In applicazione delle disposizioni del Codice Antimafia, il GICO di Napoli ha sottoposto a sequestro complessivamente le quote e l'intero patrimonio aziendale di 17 società, 51 immobili tra fabbricati e terreni, 8 tra auto e motoveicoli, nonché 27 rapporti bancari e finanziari per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro. Pezzella è stato rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso e condannato in primo grado per reati di corruzione e di turbativa d'asta nell'ambito di indagini condotte dai carabinieri. Per diversi pentiti, ma anche per gli inquirenti e i giudici, dal 2000 è entrato a far parte di un ristretto gruppo di imprenditori di fiducia della fazione schiavone russo del clan dei Casalesi, al quale versava il 10% dell'importo dei lavori che si procurava. Gli approfondimenti di natura economico-patrimoniale, eseguiti anche con una procedura di controllo giudiziario, poi trasformata in un'amministrazione giudiziaria durata tre anni e mezzo, hanno evidenziato una condizione reddituale, finanziaria incompatibile con il patrimonio accumulato nel tempo, ragionevolmente riferibile secondo gli inquirenti a prescindere dal dato della sproporzione al frutto del rapporto malavitoso instaurato con i Casalesi.